Il terremoto non ha distrutto i obiettivi della Symbiotech, lo spin-off di Unicam che negli ultimi anni è divenuto un punto di riferimento nel settore dei prodotti a base di probiotici. Dopo la distruzione della sede di Camerino e i due anni passati nei locali di Unicam, la società ha acquistato e sistemato una nuova sede nel palazzo Atlas a Torre del Parco per aprire una nuova era. Abbiamo aspettato tanto, in questi due anni che siamo stati fermi l'azienda ha sofferto un po' perché la commercializzazione, la produzione, eravamo molto ben alloggiati all'università che ci ha ospitato molto bene, però capisce che non erano le nostre sede obituali e gli spazi e le strutture non erano adeguate a quello che era la nostra sede produttiva. È un momento importante perché vediamo realizzata una sede nuova dopo il terremoto che ci aveva veramente messo a terra e quindi per noi poter dare un'opportunità ai giovani di poter lavorare è veramente una gratificazione. Da qui Symbiotech si prepara alle nuove sfide per il futuro. La grande distribuzione, siamo già in contatto per aprire dei siti nella grande distribuzione e in questi anni abbiamo aperto un nuovo settore che abbiamo sempre avuto ma abbiamo dato incremento che è l'attività a conto terzi. Quindi abbiamo fatto ricerca per conto terzi e ci ha reso molto bene, quindi abbiamo intenzione di continuarla. Nel settore umano abbiamo sviluppato prodotti contro le allergie, abbiamo sviluppato prodotti contro la candida e nello stesso tempo ci siamo indirizzati verso il settore animale e lì abbiamo sviluppato una nuova linea di prodotti che sono specificamente adatti al benessere intestinale degli animali. Oltre a questo abbiamo continuato a sviluppare progetti di ricerca, ci siamo sempre impegnati nel portare avanti questi progetti che sono progetti sia con la regione che progetti europei. Il futuro lo vediamo sicuramente più rosso adesso, sappiamo che sicuramente la strada sarà ancora in salita però oggi siamo pronti ad affrontarla con maggior coraggio e maggior forza e quindi cercheremo di sforzarci e di impegnarci affinché i nostri sforzi possano essere ricompensati. Presenti tante autorità al taglio del nastro a sottolineare l'esempio che questa società può portare alle tante imprese del territorio. Riparte con uno spirito veramente combattivo, riparte con nuovi giovani, con nuove assunzioni, riparte con la voglia di continuare a crescere. Unicam c'è, Unicam darà a loro il massimo sostegno, continueremo a formare giovani che potranno dare un contributo importante a Simbiotec. Vogliamo far sì che le nostre ricerche insieme a loro diventino veramente una risorsa per il paese. Per noi sta a significare la possibilità di guardare al futuro con delle certezze, quelle certezze che sempre rimarco e che oggi trovano un sigillo di garanzia importante con l'ufficialità di questa azienda e questo spin-off estremamente significativo sotto tutti i punti di vista e soprattutto per il messaggio che lancia con la sua permanenza in questo luogo. Un esempio per tutti fondamentale è che non hanno aspettato contributi dello Stato ma si sono riorganizzati, considerato che avevano veramente le strutture inagibili, anzi sono crollate. Con la loro finanza propria sono riusciti a mettersi in moto e a creare questa nuova opportunità. Quindi è un valore per il territorio, è un valore per le imprese come esempio ma è un valore per tutta l'Italia. Quando ci sono questi eventi è una festa per noi e per tutti gli imprenditori italiani. Ci dobbiamo credere, dobbiamo far bene e dobbiamo guardare avanti. Un in bocca al lupo a tutti e auguri alla Simbiotec. Grazie.